I carabinieri della compagnia di Agropoli, diretta dal tenente Francesco Manna, nella mattinata del 6 aprile ad Agropoli, hanno arrestato il pluripregiudicato 48enne di Agropoli per il reato di rapina. Lo stesso, già sottoposto alla detenzione domiciliare per altri reati, durante il periodo di permesso che gli consente di allontanarsi temporaneamente dalla propria abitazione, ha pensato bene di fare irruzione nell'abitazione di una conoscente del luogo. Edivi giunto in assenza della donna di impossessarsi con la forza di uno stereo ivi custodito, l'uomo intimava al figlio minorenne della proprietaria di casa solo nell'abitazione di porgli lo stereo in macchina, in quanto presente il ragazzo, per paura di essere picchiato e intimorito dall'atteggiamento minaccioso del pregiudicato, acconsentiva di scendere l'apparecchiatura in strada che veniva caricata nell'autovettura in uso al 48enne, che si allontanava velocemente. Nella circostanza, i carabinieri della locale stazione rintracciavano prontamente il prevenuto, traendolo in arresto e restituendo la refurtiva al legittimo proprietario. L'arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, veniva nuovamente condotto presso la propria dimora in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina presso le aule del Tribunale di Vallo della Lucania.